Dai alla mamma e alla nonna un bacio da parte mia e ti prometto che mi metterò in viaggio appena possibile Grazie papà, ti voglio bene anch'io È pazzesco Hanna, questa lettera prova che Alison conosceva Bethany e che la attirò qui per il Labor Day Questo potrebbe sollevare un ragionevole dubbio per scagionare Spencer Oh grazie a Dio, non voglio dire la parola con la S ma mi sento abbastanza ottimista stasera Possiamo tirare un sospiro di sollievo Buon Natale Buon Natale E il suo cuore crebbe di tre taglie quel giorno Già Buon Natale